16 anni di carcere, è questa la sentenza per Barbara Pasetti, la quarantenne accusata dell'omicidio di Luigi Criscuolo, commerciante pavese conosciuto come Gigi Bici, avvenuto nel novembre del 2021. Si chiude così una vicenda che per mesi è rimasta avvolta nel mistero fino all'arresto della fisioterapista di Calignano e alla sua confessione, arrivata dopo dieci mesi, passati in cella. In aula Barbara Pasetti, in lacrime, ha chiesto scusa ai familiari di Criscuolo. Avevo paura per mio figlio, ha spiegato, mi sono rovinata la vita, ma l'ho fatto per lui. Il giudice ha disposto il pagamento di una provvisionale di 100.000 euro a ciascun figlio e alla compagna, per un totale di mezzo milione di euro. Pasetti risulta però nulla tenente e la casa di Calignano, dove è avvenuto il delitto, è stata dissequestrata perché è di proprietà del padre della donna. Durante l'udienza i pubblici ministeri avevano chiesto 14 anni di carcere, ma il giudice è deciso per una pena più severa, nonostante fosse caduta l'aggravante della premeditazione. Barbara Pasetti doveva rispondere di omicidio volontario, occultamento di cadavere, detenzione di arma illegale e tentata estorsione, per aver anche chiesto soldi alla famiglia di Criscuolo, inscenando un finto rapimento da parte di una banda criminale dell'Est Europa. Fu proprio grazie a quelle lettere che gli investigatori intuirono un possibile collegamento con l'omicidio. Dopo l'arresto per tentata estorsione avvenuto nel gennaio del 2022, la quarantenne continuò a professare la sua innocenza fino all'ottobre scorso. Dopo dieci mesi in carcere, confessò il delitto, spiegando di aver sparato per sbaglio e chiedendo un rito abbreviato, una formula, che ha consentito lo sconto di un terzo della pena. La condanna è arrivata dopo due sole udienze, sia la legale della donna che gli avvocati dei familiari di Criscuolo, attendono ora di poter leggere le motivazioni della sentenza.